Donne, meravigliose e misteriose creature, conquistarle è una vera e propria impresa, quasi sempre se la tirano, eppure basta toccare il tasto giusto e si accendono in un attimo, bisogna avere quello che io chiamo il tocco magico, sapete io ce l'ho, non mi credete? State a vedere, basta una piccola carezza e le donne iniziano ad arrossire, la prima, la seconda, la terza e la quarta bene, quattro donne per me sono troppe, ne sceglierò solo una, quale mi suggerite? La donna di cuori? Bene, la lasciamo sul tavolo Quindi, tre donne per voi e una donna per me Ma è blu Mi sa che neanch'io ho ancora capito bene le donne Beato chi le capisce veramente Non, non Per me